Una casa di storie, racconto scritto da Domenica Busi e raccontato da Combriccola teatrale botticinese. C'era una volta un vecchio pollaio. Virazzolavano galline e gallinelle garbate, che si accoccolavano nella polvere, scuotendo le piume. Deponevano le uova, sorseggiavano acqua di pozzanghera, guidavano per laia polcini schiamazzanti. A sorvegliare un vecchio gallo. Non aveva piumaggio variopinto, né una cresta fiammeggiante, né uno squillante chicchiricchi. Era un gallo modesto. Qualche volta si appostava sul trespolo più alto per godersi l'antirivieni di quel suo piccolo mondo. Gli capitava di sbirciare nei pollai vicini, ma gli sembrava che, tutto sommato, la vita nei pollai fosse regolata dalle stesse leggi. Svegliarsi presto, razzolare, cantare, gioire, ma anche temere l'arrivo della faina, o delle grandi feste, quando qualcuno finiva su luculliane tavole imbandite. Tutto filava liscio, fino a quando il pollaio, non si sa come, si riempì di galli. C'era chi aveva piumaggio stupefacente, chi la cresta più ammirata, chi l'andatura più elegante, chi più squillante. Una meraviglia per gli occhi. E da quel giorno tutto cambiò. Il vecchio pollaio ingentilito, galline meravigliosamente inquadrate, pulcini saltellanti. Ogni gallo aveva le sue ragioni ed era fermamente deciso a dimostrare il suo valore. Ma si sa, quando sono troppi i galli a cantare, non si fa mai giorno. Nonostante quell'impegno smisurato, nessuno si accorse che il pollaio era rimasto vuoto. Alla critichella, galline, gallinelle e pulcini, zampettando qua e là, avevano scelto la libertà.